Bentornati nel canale La Vita Curiosa. Prima di iniziare questo nuovo video clicca su mi piace e iscriviti al nostro canale. La tragica notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno. Il famoso chef 34enne di Cassina è stato trovato senza vita nel suo appartamento a New York. Tuttavia, al momento, le circostanze del suo decesso rimangono a volte nel mistero. Sebbene l'ipotesi più plausibile sembri essere un improvviso malore, non vi è ancora certezza alcuna. La famiglia ha già avviato le pratiche per riportare la salma in Italia, ma il vuoto lasciato dalla mancanza di spiegazioni è palpabile. Riccardo Zebro, un giovane cuoco che aveva fatto della passione per la cucina e il suo stile di vita, era emigrato anni fa nel piccolo centro dove era cresciuto. Dopo aver giocato nella squadra di calcio locale e aver completato gli studi, aveva iniziato il suo percorso nelle cucine più prestigiose di Milano, scalando posizioni fino a diventare chef di reparto. Successivamente, aveva intrapreso esperienze lavorative in resort di lusso alle Bermuda e in un rinomato ristorante del Westwatch. La sua presenza a casa era attesa a settembre, quando solitamente trascorreva le sue vacanze insieme alla famiglia e agli amici. Riccardo era una delle menti più brillanti della nostra comunità, un individuo che aveva trovato il successo lontano dalle sue radici, ma che aveva sempre portato con sé l'amore per il suo paese e per la sua gente. La sindaca Elisa Balconi, visibilmente sconvolta, ha dichiarato «Riccardo era uno dei figli più luminosi della nostra comunità, che ha trovato fortuna lontano da Cassina». Ma si è sempre portato il suo paese e la sua gente nel cuore. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto non solo nell'ambiente culinario, ma anche nel cuore di coloro che lo conoscevano e lo amavano. La speranza è che le cause del suo decesso possano essere chiarite al più presto, per dare un po' di pace a chi resta e per rendere omaggio alla memoria di un giovane talento che ha lasciato un'impronta indelebile. Grazie di aver visto il video e rimani sintonizzato per non perderti le prossime novità.